Ah! Non ci credo, quel pisellino con un tattico mio... Tu non rompi le palle! Uuuuh! Ok, dai... AAAAAAAA! Ragazzi, siamo tornati con la challenge opposta di settimana scorsa. Siamo con Shane e con Eymarin. Bella! Ciao! E oggi sarò io a fare un provino per l'A-Team, che è il suo team e spero di essere abbastanza forte, ma ci riuscirò. Ragazzi, 10.000 mi piace per il prossimo video insieme alla mia crush. E vi ricordo che se inserite il codice SHIKO in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia di Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi riposteremo la vostra storia e in più risponderemo ai vostri messaggi tutti i giorni. Allora, hai detto che vuoi entrare nell'A-Team, giusto? Sì. Come prima prova, devi assolutamente passarmi un game di Buildings in Creative. Ok. Ehm, facile, dai. Sono easy, proprio, ragazzi. Sì, sì, sei bravo, sei bravo, sei carico. Vediamo. Ti faccio vedere i 90s, quindi? Vai, fammi 90s. Vado. Te ne vedo. Da tutte e due le parti te li faccio. Guarda che veloce. Più, 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 più. Sarebbe il più veloce del team. Sto farli anche infiniti, guarda. Mi rallentano un po', però. Ok, dai. Ehm, posso anche tunnelare se vuoi. Fami vedere qualche tunnel. Allora, i tunnel mi li ha inserati Shane e quindi sono mega bravo. Vai. Vado? Vai. Ecco, hai visto? È bravo, eh. E li sto fare anche laterali, guarda. Bravissimo. Però non sono ancora bravissimo nei retake. Che non sono importanti. No! Però sono bravo, vero, a buildare, va bene? Accettabile nella media. Accettabile? Guarda, so anche fare il mongrallino, guarda. Aspetta, aspetta, riprovo. Eccolo. Flexami due edit, vai. Vado? Vai. No! Sono difficili queste. È forte, eh? È? Guarda, immagina c'è il nemico lì dietro? Aspetta, avventiamogli la piattaforma. C'è il nemico lì, faccio. Pum! Hai visto? Vogliono che andiamo in pubblica? Sì, vai. Andiamo in pubblica che è meglio. Andiamo! Per questa partita sarò super competitivo. Quindi spegniamo le luci e concentriamoci. Non ascolterò nemmeno le vostre prese in giro. No! Però Shin, se hai qualche consiglio da darmi, mi fa un piacere. Sono già pronto. Vediamo, vediamo se ne sei capace. Tutto bene? Tutto benissimo! Ok. Non sembra molto convinto. No, per niente. Ha un buon loot, eh? Ok. Bravo! Hai visto che ho fatto? Hai visto che ho fatto? Ok, onesto. Onesto? Dai, dai. Si dice bravissimo. Non ho visto. Cioè, sto ancora in voce. Quindi adesso dovrei farmi una kill meritata. Ok. Sei fortissimo. Grazie, Shano. Ti voglio bene. Anch'io! Arrivano. 11 build. Bravo! Guarda che forte con gli elite. Dove lo trovi uno così? Ne ha miso di quattro dopo. Ma cosa? No! Però, cioè, guarda, questi non erano edit da... Non erano edit semplici, eh? C'è da dire. Cioè, guarda. Qui si parla di pura qualità. È proprio un... Oiii. Oh. Guarda come si è boxato straveloce, hai visto? Non ci credo! Quel pisellino con un tattico mi ha sparato! Bravo, GG. Ok. Mi dai un'altra possibilità? L'ultima. Forse è merito... Forse è merito... Brutto cagone, come si chiama questo? Forse è un po' scarso, solo forse. È che io ci contavo, scusami. Ok, non devo farmi sconcentrare. Stai rilassato. Nella vita capiteranno tante situazioni simili. Dai, tranquillo. Sei solo stato più scarso di lui, sai. Ok, ragazzi, sono prontissimo. Ok, dove atterro per la seconda partita? Devi atterrare per forza a fattoria. Fattoria, ok. Sì. La casa della mia crush. Cari video! È tu, è il game è tuo, bro. Sì, sì, sì. Ti dedico la vittoria, eh. Te la dedico col cuore. Vedrai. Che dolce che è. Sì, 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 sono dolcissimo. Ovviamente, ovviamente, devi per forza scendere al finire, per forza. Ma è ovvio. Io so dove scendi tu di solito. Siamo, siamo in simbiosi io e te. Ok, ci siamo, il lutto è buono. Ragazzi, attenzione, il lutto è buono. Noi stiamo entrando a guardarti, eh. Entrate dentro dove volete, raga. Mi trovo molto bene con i FAMAS. Hai visto che forte ti ha a bere lo shield? Sono già pronto a fare le due conallo, raga, competitive. Ah, quindi, aspetta. Ma vuol dire che mi abbandoneresti? No, no, entri anche tu di conseguenza. Entriamo tutti. Raga, chi guarda sto video, il team è aperto a tutti. Ehi, team. Tutti, tutti. Non ci sono neanche i provini, raga. Tutti dentro, forza. Tutti dentro, lo sfasciamo, sto team. No. Ci sono delle prove difficilissime da superare per entrare nel team. Mi sbaglio o il nostro Luke qua non è in grado neanche di fare questa cosa? Questa cosa cosa? Più o meno, dai, vediamo come si comporta ancora. Sì, quindi non è così semplice. Mi fa andare in un posto in cui non ci sono nemici. Appena li trovo li uccidono, prova. Puscia li, puscia tutti. Eh, dove li trovo? Nemici? Cipollini? Ehi, Mary, mi rimangio tutto, scusa. Pensavo che... Che lecca sederini. Uh. Guarda, siete già in 58. Oh. Uh. Vediamo. Ragazzi, super concentrato. Voi vedete proprio la sua faccia. Ah, una kill finalmente. Ti è piaciuto? Era fortissima. Ma se tu non ha dedicato. Ha davvero giocato bene lui. Ascolta, lui ha giocato bene e io ho anche laserato. Lui si è messo a buildare. Ha messo il duro. Sì. No, Gigi, si era boxato bene. Sì, sì. Un sacco di erit ti hai fatto assurdi. Certo. Ragazzi, io non voglio essere più vostro amico. Sì, dai, scemo, c'è un elicottero. Scemo? No, dai, no, scusa. Di ancora una parolaccia e sei fuori dal team. Ma davvero non prendi l'elicottero? L'hanno preso gli altri e li uccido. Oh, oh, spara. Ottimo tracking. Dai, una cosa grossa così. Sì, no. Alan pure mancato, Gigi. Ma che ne dici? Prova a sparare col pompa, magari lo becchi. Hai fatto HS all'elicottero. Oh, mio Dio, l'ha messo. Oh, mio Dio, bro, ma vacci piano. Io sto cerchendo di mirare lui, non l'elicottero. Brutti pisellini che non siete altro. E allora ha senso che non lo becchi, allora. Esatto, esatto. Perché se mi da la persona non becchi l'elicottero. Facciamo un po' il gioco del silenzio? Sì, certo, vai. Senti questo è il gioco del silenzio che non sai neanche parlare mentre giochi. Uh, scusami. Solo fortuna, solo fortuna. È sceso. Siete uffato di bruto. L'ho ucciso. L'ho ucciso. Non si vede. No, siete uffato. Sapeva che sarebbe morto. Si è suicidato. E comunque questa azione mi ha permesso di farmi rivelare la posizione di un altro nemico. Eccolo là. È lì. Comunque si possono anche, in teoria, alzare il volume. Giochiamo al gioco in cui tu non rompi le palle. Cioè, guarda, hai tutti gli esplosivi, hai il tuo unpack bellissimo. Cosa vuoi di più? O se perdi davvero sono più scarsa della lobby. È il mio? No, il tuo non mi interessa più perché hai detto che se perdo sono più scarso della lobby senza tenere in considerazione tutte le variabili in cui si possono affrontare in un gioco chiamato Battaglia Reale. Intanto il gioco si chiama Fortnite. Quando giocavo io queste cose però non te le ricordo. Infatti. Vabbè, comunque fammi vedere se riesci a... A buildare magari qualcosina. Esatto. Oh, bello. Oh, GG. È una nuova tecnica di building quella. Eh? Aspetta, a chi sparano? Grande, l'hai ucciso proprio te? Comunque, non mi state più simpatici. Dopo possiamo stare un creativo a io e te che mi insegni a giocare così. Per favore. Non sparare, no, no, che fai? Quanto godo? Mamma mia, bro. Mamma mia, bro. È proprio peccato col razzo. Occhio. Dai, forse è giusto. È proprio fosciuto per vita. Guarda quanto stai facendo. È fortissimo, bro. Ferma, bro. No, no, no. Stai facendo i 90. Spera quanto è veloce. Gigi, te la sei vista brutta perché era molto forte. Mamma mia, mamma mia. È troppo forte questo ragazzo. Ragazzi, ricordatevi che nella vita non bisogna mai ascoltare i propri nemici. Solo quelli che ti vogliono bene ti supportano. Era davvero forte, bro, GG. Solo le persone che vi vogliono bene e che vi sostengono nel momento del bisogno. Ragazzi, i ragazzi ormai non mi fanno più effetto queste cose perché ho capito a chi dare peso. Cioè, ti sto provinando. Non è che... Mi stai riprendendo. Aia! Ottimi riflessi. Hai preso solo 50 di danno? Hai pochi mazza. Quattro build. Zero build. Bravo! Qua, bravo. Dai, dai. Questa mi piace. È stato bravo. Cioè, in verità è stata fortuna perché ti ha fatto cadere in faccia del nemico e tu l'hai hitato per sbaglio. No, fortuna non esiste. La fortuna è quando il talento incontra le possibilità, bro. Luca, va a cambiare il vampa per uno scar. Dovresti pensarci te, però dato che sono il tuo coach. Bravo, grazie. Almeno un consiglio, dato che... Non so se ti ricordi adesso che cambi lato, ma noi le abbiamo dato un sacco di consigli nelle partite scorse. Infatti ti ho dato questo consiglio importantissimo. Stavate dicendo robe a casa, tipo costruisci, fai cosa, non so. Questa è una bella e buona bugia. Hai ragione, mi ha costretto lui a darti fastidio perché aveva paura che facevi un provino meglio del suo. E fa lo dico, ok. Ecco, guarda. Tu, attenzione. Mi sa che tu toglierai il tag. Bravo. Hai un botto di mazza, hai il lanciarazzi. Ma... L'ho visto anch'io. No, no, raga, l'hanno visto tutti, scusa, stanno guardando tutti questo video. Sì, 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 no, questa... Ok, qua, ok, forse sei stato scarso te a cliccare. Ma non me lo spara! Ma sei serio? Non so quale. Uh! Solo perché te l'ho detto io. Effettivamente sì, no, 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 raga, me lo potevo fare. Ma perché il fiero ti stisi ripara dai danni? Baloo, Vest, più... Dai... Ah! Io credevo che il raggio facesse già da anni. Eh no, l'avevi ucciso. Vabbè, dai. Però qua hai giocato stra bene. Dai qui! Sì, sembra il primo raggio partiva. Questo game è... Dai, questo game è stato davvero bravo. Niente ragazzi, non voglio nemmeno sapere se sono entrato nel team. Per ora noi non possiamo farlo che salutarvi e ringraziarvi. Perché noi come sto oggi perché nel prossimo video... Ragazzi salutate. Ciao! Bella! Dai, sarà per la prossima volta. Bella! Se gli vuoi dare un'altra possibilità.